Sulla rissa trabande, avvenuta uno decino di giorni fa in piazza San Graziano d'Arona, l'opposizione aveva chiesto un consiglio comunale straordinario. Il documento inviato al presidente Ferruccio Cairo era stato firmato dai consiglieri di Arona Domani, Roberto Buttacca, Arla Torelli, Nezza Eddumi e Camillo Cavanna. Chiedevano che nella seduta venisse comunicata la relazione del sindaco Federico Monti sugli incidenti accaduti in piazza San Graziano e i dettagli sulle misure che intende prendere per salvaguardare l'ordine pubblico. A rispondere alla richiesta non era stato il presidente del consiglio comunale, bensì il sindaco Federico Monti, che afferma «Ritengo non sia necessario indire una donanza straordinaria, essendo previsto a una convocazione a fine mese. Si è trattato di una rissa subito sedata dall'arrivo dei carabinieri, conclusasi con la denuncia di due individui, tra cui un capo branco già seguito dai servizi sociali. Monti poi spiega le iniziative per contrastare il fenomeno. L'ordine pubblico è materia delle forze dell'ordine. Tuttavia, è stata mia premura a convocare una riunione con i carabinieri e la polizia locale, con l'assessore alla sicurezza Tullio Mastrangelo, dove sono state definite le attività di presidio della piazza. Il venerdì e sabato sera si opererà con una pattuglia della polizia. Inoltre due unità della vigilanza saranno presenti per scoraggiare azioni di disturbo. Infine, una pattuglia dei carabinieri effettuerà soporluoghi nelle stesse serate. Daruna domani rispondono. Il sindaco minimizza il problema. Il punto però è che non è il sindaco deputato a decidere se convocare o meno il Consiglio Comunale, ma il suo presidente, che è tenuto a farlo a norma di regolamento. L'argomento merita che vi sia dedicato una seduta specifica, come da nostra richiesta. Al presidente del Consiglio Comunale chiediamo di agire come da regolamento. Al sindaco invece di evitare di interferire in campi non di sua competenza. Questa la conclusione dei consiglieri di minoranza.